Cari amici, ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vittis. Che cosa accadrà nella giornata di mercoledì? Scusate, nella giornata di sabato sono tornato un po' indietro come i gamberi. Nella giornata di sabato ancora ci saranno delle piogge sul nord Italia, ovviamente ancora delle nevicate. Poi verso fine giornata tenderà a peggiorare a partire dal nord ovest. Seguirà poi aria più fredda? Ve ne parlerò nel prossimo appuntamento meteo perché domenica crollo delle temperature al nord e parte del centro, arriva aria più fredda. Ma nella giornata di sabato, altro che mercoledì, cari amici, avremo un po' di instabilità ancora sulle regioni centrali. Soprattutto nelle zone interne, soprattutto sui rilievi e ovviamente ancora qualche fioccata. Sul sud Italia nuvolosità irregolare, il rischio di qualche goccia è davvero basso. Quindi tempo peggiore soprattutto al nord e poi sul nord ovest in serata, entro la serata. Io per il momento mi fermo qui, cari amici ci riaggiorniamo presto, quindi seguiteci, seguitemi, arrivederci.